Buongiorno a tutti da Andrea Raggini e buon inizio di settimana a tutti i telespettatori di Teleromagna. Dopo un weekend iniziato con cieli prettamente grigi e piolge sul crinale emiliano, mentre la giornata di domenica ha visto anche più schiarite sui settori romagnoli, la giornata di lunedì vedrà un inizio grigio sull'Appennino, qualche schiarita si avrà ancora una volta sui settori orientali, ma poi la giornata proseguirà soprattutto con il forte vento. Infatti su tutto l'Appennino e sulle prime colline romagnole tornerà a soffiare forte il Garbino, che localmente potrebbero superare raffiche fino a 100 km orari. Questo porterà anche un netto aumento delle temperature, infatti proprio sulle prime colline romagnole potremmo superare localmente i 15-16 gradi, quindi un anticipo di primavera. Purtroppo questo sia nel weekend sia nella giornata di oggi farà sciogliere quasi tutta la neve anche sulle vette, infatti farà caldo fino alle nostre montagne. Poi la giornata di martedì vedrai il ritorno del sole su quasi tutta la nostra regione con temperature in calo. Per ora è tutto, un caro saluto da Andrea Raggini.